Le regioni d'Italia L'Italia è divisa in venti regioni. Emilia-Romagna Si trova nel nord del paese. Il suo capoluogo è Bologna. È considerata una delle regioni più ricche d'Italia per quanto riguarda la sua tradizione enogastronomica. Campania Si trova nella parte sud-occidentale dell'Italia. Il capoluogo della regione è Napoli. La Campania è famosa per i suoi golfi, le isole e per la pizza. Calabria È una regione del sud-Italia. Catanzaro è il capoluogo della regione, mentre Reggio Calabria è la città più popolosa della regione. La Calabria è nota soprattutto per le sue spettacolari spiagge. Basilicata È una regione del sud-Italia. Il capoluogo della regione è Potenza. La Basilicata è nota per i suoi formaggi, il cibo piccante e le erbe selvatiche. Puglia Si trova nella parte meridionale del paese. Bari Bari È il capoluogo della regione. La Puglia È famosa per la produzione di olio d'oliva. Valle d'Aosta Si trova nell'Italia nord-occidentale. Il capoluogo della regione è Aosta. Questa regione è famosa per i suoi formaggi, in particolare la Fontina. Abruzzo È considerata una regione del sud-Italia. L'Aquila È la capitale. L'Abruzzo È noto per i suoi paesaggi, i parchi e le riserve naturali. L'Aquila 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 Grazie a tutti.